benvenuti da guampisi massimi esperti questo nuovo video sarà incentrato su zoro e parleremo soprattutto del suo hachi del re del suo hachi dell'armatura rio riuo come preferite c'è prima la u e poi la o e poi parleremo del demone asura partiamo da quest'ultimo analizzando con calma tutti i vari richiami quindi piccolo riferimento ad asura per il vedismo o la religione dei veda i sacri testi gli asura o asura costituiscono un elemento importante rappresentava la classe degli esseri divini espressione e personificazione dei fenomeni della natura manifestazioni dello spirito supremo da esseri divini divengono i rappresentanti delle forze del male avversari degli dei a testimoniare l'eterno oscillazione fra la creazione e la distruzione l'ordine e il caos il bene e il male ed indica anche le parole respiro o spirito vitale vi ricordo che il demone si scrive asura e si legge asciura quindi si scrive senza h ma si legge come se ci fosse l'h detto ciò questo demone che viene evocato tra virgolette da zoro sembra far sì che ci siano tre zoro e quindi nove spalle naturalmente è un effetto ottico è un'illusione ciò potrebbe essere legato anche ad un'energia repressa all'interno di zoro piuttosto che un collegamento al suo achi del re ed infine potrebbe esserci anche un collegamento con l'origine di zoro per quanto concerne wano kuni però andiamo con ordine e lo spiegheremo nei dettagli con calma nel capitolo 1010 zoro dice allo che dopo aver usato tale tecnica non avrebbe potuto fare più nulla e da lì sfodera la potentissima tecnica a nove spade demone asciura bakkei moja no tawamure a seconda dei vari giochi di parole acquisisce questi significati spade sguainate lama nuda giocare con la morte e scherzi dall'ottetomba il nome della tecnica è anche un rimando al rakugo che sono le parole cadute è un genere teatrale giapponese ci siamo a tema siamo a wano kuni e quindi è giusto così grazie a questa tecnica zoro riesce a ferire cane l'essere la creatura più forte del mondo all'interno di one piece in questo preciso momento è importante fare un distinguo perché kai do lascia intendere che zoro abbia manifestato l'achide re e questo potrebbe essere appunto legato all'asciura però stilisticamente nei disegni non ci viene mostrato l'achide re per attaccare come fa rufi successivamente nello stesso capitolo non è contornato da queste scoste nere quindi noi crediamo che sia solamente il rio che zoro ha messo nelle lame anche grazie soprattutto alla emma ma naturalmente sappiamo bene che emma canalizza l'achide che però è di zoro ripetiamolo è di zoro essendo che zoro sembra inconsapevole di aver manifestato tale a chi un po come fece rufi a marine fort noi vi diciamo che zoro ha si manifestato l'achide re con il demone asciura e quindi kai do l'ha percepito kai do non è non sprovveduto però poi attaccato canalizzando il rio cioè l'achide dell'armatura riuscendo a ferire kai do in modo permanente perché la ferita inflitta da parte di zoro non è come quella dei foderi non è come killer non è come kid non è come lo bensì e come quella di oden nel senso che rimarrà per sempre sul corpo di kai do quindi ripetete insieme a me ha manifestato l'achide re attraverso la sciura ma attaccato grazie al ruo cioè l'achide dell'armatura diciamo questo perché questo power up è stato appena raggiunto da rufi no l'insieme del ruo e dell'achide re usato per attaccare questo questa miscela questo mix e quindi pensiamo che zoro raggiungerà anche lui però non è questo il momento già aver raggiunto questo livello perché sottolineiamo che l'attuale kai do dovrebbe essere più forte di quello dell'epoca che in questo momento sta combattendo nella forma ibrida che a seconda anche di luce è la migliore per quando concerne un combattimento quindi tanto di cappello a zoro che si dimostra ancora il secondo in ciuma per forza dopo il capitano semmai ci fosse stato bisogno di confermare questa cosa che noi diciamo da tempo però vi ricordo molto importante che all'interno del manga vi sono state già altre occasioni in cui zoro ha dimostrato o almeno noi abbiamo sospettato che lui potesse avere l'achide re e adesso ve le diciamo secondo noi l'ha fatto con kaku quando manifestò la sciura con monè che si immobilizzò per la paura con urashima il campione di sumo di vanno come il campione insomma nel capitolo 1915 e poi l'ultimo indizio ci fu dato da bruc nel capitolo 1997 quando si pensava che zoro avesse usato la chiedere sappiamo che in quel caso non era lui e non era dovuto a zoro però era un indizio quello che comunque oda ci stava dando all'interno della narrazione quindi la sciura si dimostra comunque come avete visto come abbiamo letto no una tecnica veramente tremenda ma quando è che zoro già l'ha usata all'interno del manga ve lo diciamo noi l'ha usata con kaku nel capitolo 417 l'ha usata con il pacifista nel capitolo 510 e l'ha usata con kaku nel capitolo 1010 ci sarebbe anche il film l'anime no strong world ma quello non è canonico e quindi lasciamo tale situazione a coloro che noi amiamo scherzosamente definire sfogliatori dell'anime molto importante se siete arrivati fino a questo punto del video dovete commentare oltre con le vostre idee ma con hashtag zoro a chi del re ci sarebbero anche dei richiami incredibili all'opera d'ororo del maestro osamu tezuka dove il daimio daigo kagemitsu fa un patto con degli spiriti malvagi con dei demoni dove sacrifica suo figlio yakimaru in cambio di potere e prosperità e anche lì ci sono questi fulmini queste divinità questa situazione che fa richiamare no un po a questi demoni incredibili e perché no potrebbe anche esserci una qualche similitudine anche con zoro molto molto importante comunque questo capitolo 1010 è stato incredibile quindi vi rimando anche alla nostra live di domenica scorsa e alla live che faremo domenica prossima e l'ultima cosa che vi devo dire è questa che è molto importante qui nelle schede vi lascerò anche i nostri due video precedenti su zoro no quello sugli origini e quello sull'aghi dell'armatura e la emma che insieme a questo fanno un tris perfetto quindi dovete vederveli tutti e tre perché noi da tempo sono anni forse due anche di più che diciamo ciò che avrebbe fatto zoro che zoro avrebbe ferito sicuramente caido facendo sì che poi il suo capitano si trovasse diciamo in questo senso un piccolo vantaggio no quindi ve li lascio qui nelle schede ve li dovete assolutamente vedere non fate gli sfogliatori dei video teorie e poi è molto importante ve lo ribadisco diteci la vostra opinione qui nei commenti e ricordatevi hashtag zoro a chi del re poi passate da tutti i nostri social instagram le due pagine facebook su one piece e tutti gli altri mangi anime telegram e siamo sbarcati anche sulla piattaforma viola poi ricordatevi di iscrivervi qui su youtube lasciare un like condividere attivare la campanella alla prossima volta del prossimo video che sarà sicuramente ancora più incredibile se non l'ho detto ancora dei massimi esperti un saluto a tutti voi sfogliatori di sfogliatelle